Un telefono non è più solo un telefono, è la tua rubrica, la tua agenda di eventi sociali e la tua fonte di svago. Il Vodafone 360 Samsung H1 è tutto questo e ancora di più. Il servizio Vodafone 360 rende semplice restare in contatto con famiglia e amici, ad esempio divertendosi a condividere foto e musica. La fotocamera è ottima, 5 megapixel con flash LED, ma quel che puoi fare con le foto è anche meglio. La definizione dello schermo touchscreen da 3,5 pollici è incredibile, con 16 milioni di colori brillanti e una risoluzione di 800x400 pixel. Poi ottenuta l'immagine, basta selezionare Facebook tra le applicazioni, cliccare e condividerla con tutti i tuoi amici. Loro possono vederti, ma anche tu puoi sapere cosa stanno facendo, perché se hanno un H1 con Vodafone 360 possono fare una foto e mostrarti dove sono aggiungendo la loro posizione. Magie del sistema GPS. Tutto funziona velocemente, Wi-Fi, Bluetooth e download HSDPA sono un fulmine e la memoria interna è enorme, ben 16 giga. Per questo la musica, una mia passione, è facile da scoprire. L'icona Shop dà preziosi suggerimenti e ti consiglia brani in base ai tuoi acquisti precedenti. Intelligente, no? E poi selezioni cosa vuoi usando il grande touchscreen. Il termine user-friendly sembra inventato apposta.